Dio 8 prossima ora, c'è un'eclipso solare che, lastimamente, non è visibile in Naruba però si è visibile in America come parte di Mexico passa da America e da Canada In Naruba, c'è visibile per un 2% da un team di noi si è visibile in luna parte della luna, non è zero se non si è visibile in luna se non si è visibile in luna se non sapete ultimamente come parte della luna è inizia a incontrare un quarto per tre, per 20 passaggi di tre ma non si è visibile ma non si è visibile ma quando ci sono passati passati a portare e conturi di luna con il telescopio mi sembra che è molto veloce se non si è visibile in luna quindi mi sono sopporti per gli altri non si è visibile in luna se non si è visibile non sono più ma non è visibile però non si è visibile in luna ma sono due collegi con l'eclipso l'amera Il motivo principale per cui capire che è il Texas, per il tempo, dipendendo dal weather, per il tempo di che ci sia, per il tempo di andare in quanto è il modo più migliore. Quindi è il luogo del bambino. Il principale è il live stream per noi, per fare conoscere altre persone, per il ramo. Abbiamo un network internazionale. Abbiamo parte della International Astronomica Union. con il nostro delegato di Dinan abbiamo colleghi da parte di team di Dark Sky Association abbiamo diverse organizzazioni internazionali con il nostro miembro di Gio Space & Nature Group Foundation è un'organizzazione di educazione, abbiamo fatto stargazing, private stargazing sia un private lecture anche per il nostro CL e il nostro aiuto anche con il P.O. ci sono esperimenti di natura con il nostro canale con il nostro canale e ci sono molto felice poi potete contattare con il nostro Facebook di Space & Nature Aruba Foundation o via internet o via email info.spacenaturearuba.com